Cars sfida tra campioni. Francesco Bernoulli e il suo team accolgono in Italia la squadra di Saetta McQueen. I due campioni si sfideranno sul mitico circuito di Monza. Benvenuto, dice Francesco al rivale. Il tuo volo era in ritardo, ma non c'è da stupirsi. Non arriverà in tempo neppure al traguardo. E invece sono sicuro che lo batterò, sussurra Saetta Cricchetto, qui a casa sua. Fuori dall'aeroporto le auto da corsa sono prese d'assalto dai fotografi. Io ho moltissimi fan, gongola l'italiano. Chiunque sa che domani Francesco vincerà la gara. Anche Saetta, un mucchio di ammiratori, sbotta Cricchetto, riceve migliaia di lettere ogni giorno. Guido schizza subito a prendere le borse della posta per dimostrarlo. Il carrellino torna con un sacco colmo di lettere e Saetta è piuttosto imbarazzato. Oh non è poi un granché, si schermisce il fuoriclasse. Ed ecco che un carrellino del team di Bernulli arriva con altri sacchi di posta. Hai ragione McQueen, replica l'italiano, non è un granché. A Francesco scrivono molti, ma molti più tifosi. Le lettere sono fantastiche, ribatte Saetta, ma solo chi sa dedicare tempo ai suoi fan dimostra di essere un vero campione. McQueen e i suoi amici salutano la folla delle auto in fila per vederli. Cricchetto incita i tifosi che scandiscono in coro Saetta, Saetta. E come la mettiamo con le autografi? In calza Francesco. Guarda e stupisciti. Bernulli fa girare le ruote a tutta velocità e in un lampo firma un mucchio di sue fotografie. Visto? Francesco fa ogni cosa a 300 chilometri all'ora. Lungo la strada le auto sostano in un bar. Ehi signor Francesco, nessuno beve la benzina più in fretta di McQueen, dichiara Cricchetto. E in pochi sorsi Saetta ne tracanna una lattina. Bernulli non si scompone, Francesco non si ingozza mai, spiega. Un pilota di classe degusta il carburante. Saetta scatta vicino all'avversario. Cosa ne dici di riscaldarci un po' prima della sfida di domani, propone? Francesco annuisce. Buona idea. Cerca di starmi dietro se ci... Bernulli non finisce nemmeno la frase e già Saetta corre su una strada sterrata. Ciao ciao Francesco! Lo saluta McQueen. Francesco cerca di raggiungere Saetta, ma sbanda pericolosamente in curva. Sterza a destra per andare a sinistra, gli suggerisce McQueen. Me l'ha insegnato una volta un mio grande amico. Quando i due si fermano per riposare, Bernulli sospira. Ah, l'Italia non è meravigliosa? Proprio come me. Pensi solo a te stesso? Domanda Saetta con un sorriso. Ovvio, Francesco è sempre concentrato a fare del suo meglio per rimanere un vincente, risponde l'auto italiana. Il giorno della gara, i fan si ritrovano a bordo pista per assistere alla sfida. Alla prima curva a sinistra l'italiano supera Saetta McQueen. Forse Saetta ha svelato troppi trucchi a Francesco, esclama. Mentre sfreccia sul circuito, McQueen è distratto dai flash dei fotografi e dalle urla del pubblico. All'improvviso ricorda le parole di Francesco, concentrarsi su se stessi e dare il massimo. Così guarda dritto davanti a sé e si porta in testa. I due campioni tagliano il traguardo affiancati tra lo stupore generale. Ciao ciao, grida Saetta. Ho vinto! Ciao bello, dice l'avversario. Ha vinto Francesco. E invece i concorrenti sono arrivati insieme e la gara finisce in parità. Gli sfidanti cercano di trovare una soluzione. A un tratto Francesco sbotta. Basta chiacchere, non ci resta che correre. Ottima idea, concorda Saetta. La prossima volta gareggeremo a Radiator Springs. Le due auto da corsa più veloci del mondo partono subito in quarta, verso una nuova sfida. Fine.